Se volete acquistare crediti andate su www.footmart.com e con il codice DREAD avrete uno sconto incredibile. www.footmart.com e con il codice DREAD. www.footmart.com e con il codice DREAD. www.footmart.com ím hydroение www.footmart.com www.footmart.com Devo un codice P bravi oh cazzo fintalo fintalo no no ok ok si si dredde si dredde segna 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 però qua c'è la copertura difensiva ho capito copertura difensiva spazza sto pallone vai tranquillo e fallo in cassaforte si mario dai borgio tira 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 6 a 1 borgia nastro lindo lo fa non molla la turentina t'ho visto gomes 2 a 2 si cazzo così 2 a 2 dai cazzo dredde si quadradigno si di la non è fuorigioco vai gomes gomes di giustezza di giustezza mamma mia come la vedi colpio del fuorigioco madonna che tocco di gas mamma mia prima al volo cioè l'hai palleggiata al volo no please please nooo ma cazzo si trozzo coglione abbiamo vinto così testala testala gol dai 2 a 1 2 a 1 2 a 1 dentro la non ci credo non è possibile mettila gome gol dai così dai gome vai così che ancora non è fuori 3 a 2 andiamo a fare fallo fallo ti prego non è fuori non è fuori di testa ti giuro che non ho toccato nulla ho corso dietro tranquillissimo è il tappello allora aspetta aspetta parliamone mario stop e tiro tira dove non è lo scherzo rossi fallo gol c'è dimmi che non finca un fuorigioco tipo oh c'è peppino libero bella vai da solo allora si 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 non ci credo finisce qui si tira tira si giuseppone peperoschi di giustezza di culo ma che giustezza bello tira e tira oh che gol bruttissimo di pasquale ma non è male oddio ma quello non c'era il corpo l'hai visto? no guarda non c'era il corpo non c'ha le gambe si 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 sale il gdm fallo 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 si risulti e finora il gdm fiorentina è in vantaggio dopo 3 minuti contro la francia fiorentina avrai ti giuro ho avuto paura di sbagliarlo non c'è il quadrato si tagliare il quadrato tagliare il quadrato tagliare il quadrato tagliare la patria tira tira si mario vai mario tira la parata ma no vabbè basta non ci credo il portiere è uscito si si via 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 tira si l'ho segnato oddio si è sbagliato madonna che gioco che gioco della fiorentina vai che sei da solo non me la prendi se magari capivo chi cazzo dalla lì davanti dai dai buona non riesco a raggiungerti smarcalo fallo 2 a 0 segnalo 2 a 0 che gol signori un'umiliazione partito 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 l'ho visto vai vai falcao con calma con calma dread si dread colombia 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 non fotti con la colombia in mezzo 2 sceglie un falso inizia inizia la roulette dei pali vai qualcosa tira tira si Sii! Lotto legato! Sii prende! Pazzi di me! Sii prende! Pazzi di me! Pazzi di me! Il Guaro! No! Stanto anche a noi, eh! Sii! Fuori il gioco! No, 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 no! Saltalo e c'è in mezzo, saltalo e c'è in mezzo! C'è in mezzo e basta! C'è in mezzo uguale! Fai! Fai! Umbito! L'1 a 0! Brutissimo! Di nuovo Jackson M! Jackson M! Fa ste cazzate in difesa! No, dai! Non mi fanno tutto! Oh! Oh! Che lancio è? Oddio! GDM! 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 Fai! Che azione è l'altro! Che azione brutta! Che cazzo hai fatto? Che azione brutta! Ma cosa brutta? E' un lancio perfetto! Occhio che quando mi hai fatto da finito ti ricordo! Bella! Vai! Vai quadrato! Sei alone! Non riesco a raggiuntere! Fallo 3 a 0! Oh mio Dio signori! Che colombia! 11 minuti! Triplettonati è già Tino! Non è Tino! Eh si! Ah è Tino! Stop e Tino Tredd! Tiro! Si così! Tiro un Jackson M! 1 a 0! 1 a 0! 1 a 0! Una macchina da guerra la Colombia! Mamma mia! Una macchina da guerra! Vai! Corri! Non sbagliarlo Tredd! Non sbagliarlo! Non sbagliarlo! Oh! Jackson M! Jackson M! Nel panico però! Ce l'ha fatta! Non è che l'hai gestita proprio alla grande sta cosa eh! Ti stavi mettendo di spalle a tirare! Stai giocando troppo bene questo episodio! Guarda l'ho detto eh! Eh infatti sono perdito! Non dire queste cose! Che brutto gol! Che brutto gol! Che brutto gol! Però te le vai a cacciare! Ho capito! Non c'entra niente Ospina! Le cacci però! Ho capito! Maglietta! Bravo! Fallo! Come l'ha chiusa Jackson! Mamma mia! Come l'ha chiusa! Grande! C'è stava Martinez che stava morendo! Ciao bello! Ciao bello! A fil di palo! Della della! Tiro! Fallo! Bob! Subito quadrato! Mamma mia! Subito quadrato! 1 a 0! Un quadrato nella tua squadra di club! LOL! Grande Assess di palo! Via da qui! Subito 1 a 0! Sono ferocissimi oggi eh! Anche Luffy! Sappiamo come ha fatto però occhio! Che gol ha fatto! Che gol ha 2! C'è in mezzo anche volendo! Ovviamente che tu ti c'ha fatto! C'è! Mi spieghi che fai! Aiuto! Ho io! Ho io! Ho io! Ho io le vado! Non è così! Oh meu DIO! Amess! 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 Che cazzo è successo! Advele! guarda pure se non fai skill non lo posso fermare oh oh quadrato oh quadrato bam ooooooo quadratino signori vedete qua cosa ha fatto qua non ce n'è più basta schemiamolo vai fallo 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 subito schemone si parte subito schemone ne l'abbiamo messo vabbè stai alli vai ooooooooo con tutta la violenza mamma mia che cattiveria tutta la violenza della bologna stavi dicendo cosa continua a girare fuori dall'aria a scattare gente a casa ma che sei tu stai fu... oddio sei matto ho fatto una cosa che addio oppa bella tira 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 4 a 0 jackson martinez bella così fa il cao buttali dentro la cittina gdm se vuoi justron non lo sbaglia 5 a 0 ci ha avuto paura eh buona è buona fallo madonna contro inserito oh mio dio che assist 1 a 0 che vola il gol fa il cao mega miliare guarda Ames che bello illuminante Ames 1 a 0 signore è fuciuto il portiere lo fa lo mette sotto al 7 vai jackson c'è il gtm e tra gola che gol brutto che gol brutto vabbè 4 a 0 che gol brutto hai chiantato il pallonettino quello di qua si veniva via via in ogni episodio c'è stato qualcuno che quitta sto tentando di salire di là ma non ci arriva vai dai cazzo jackson che fatica no non lo fare pensavo gli stai a fare il cucchiaio no pensavo gli stai a fare il cucchiaio no non lo fare mica mi stavo cagando sotto a un certo punto c'è strano oggi solo long shot vai 4 a 2 3 siamo 3 non 4 è vero 3 è vero ma stavamo a vincere avevo se avevo una volta stai zitto fai cao oh che cazzo guarda la palla la palla è di un terra oh ma non puoi battere non lo so ah la prende in mano off mai oppo vai fallo fallole jackson martinez ½ bomba rara madonna mia SI CAZZO al volo di prima si così Ospina c'è su 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 Ames 6 dai definisce dai 2 pari dai che non è ancora finita Vai Ames Goal Si si Porca puttana Si Sono esploso Oh mio dio Dai Ames Oddio Ames L'ho vista il quarto anello quando è partita Appoggio Goal Bellissimo Bellissimo Cazzo Bellissimo E la chiudiamo qua La chiudiamo qua Grande A Ma dove l'ha visto Si Ames Bellissimo Si fa il cao La chiudiamo qua Cazzo Che sofferenza Falca 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 tira Uuuu Goal 1-0 subito Jackson Dai Porco due T'ha spostato Vai Si Gioga tennis Gioca tennis Ames 3-2 Bomb Bomb Mandalo Dai ripowniamolo Ripownalo 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 2-2 2-2 4 minuti 3 gol Incredibile Li monti te 18 gol Che palle Bella Madonna mia 2-3 Come l'ha chiusa Come l'ha chiusa Oh Cosa ho fatto Come l'ha chiusa Che azione abbiamo fatto Si L'ho dovuta chiudere così Perché ogni tanto mi partono gli schizzi di D'entusiasmo Di provagine D'entusiasmo Così Oh Cio Via Dread Non la spaccia Bellissima Guarda come l'ho visto Bellissima Jackson Cosa faccio Dread Vai Dove lo porto di via E tira 3-1 Si fa pesante la storia Si fa pesante Dove la sta mettendo oggi Jackson E ora che si gira 23 minuti Di qua Bravo Vai Fallò Era bella Ricordate che in descrizione c'è G2A per giochi e abbonamenti scontatissimi